Com'è la notizia? Mi sono avuti sin dalla prima giornata purtroppo e in qualche modo grazie anche allo staff medico sono riuscito a scendere in campo comunque anche perché la voglia è sempre stata molta di dimostrare l'attaccamento alla maglia e l'attaccamento a questa squadra. Purtroppo non sono stato l'unico anche ad avere questi problemi fisici quindi è ovvio che quando iniziano a sommarsi così tanti problemi diventa anche difficile giocare a palacalestra, diventa difficile preparare una partita e diventa difficile anche affrontare nel modo giusto il campionato. Ecco è difficile perché poi nel quotidiano appunto anche questi piccoli acciacchi o problemi che hai avuto magari non vengono fuori però poi devi stringere i denti per scendere in campo. Proprio per anche come appunto è stato chiesto dai tifosi onorare questa maglia ma voi state cercando di farlo però a volte queste problematiche, questi acciacchi lo rendono ancora più complicato. Certo, lo rendono complicato e in questo caso quando il dolore è talmente forte da non poter scendere in campo purtroppo non ci si può fare niente perché si diventa anche deleteri per la squadra. Quindi nonostante gli acciacchi io in primis ma lo dico anche per tutti i miei compagni di squadra c'è sempre stata molta voglia di andare sopra il dolore e giocare comunque per poter almeno dare un piccolo aiuto alla squadra. I problemi fisici ce li hanno tutte le squadre per carità però in questo caso diciamo la sfortuna quest'anno diciamo che ci ha messo, ci ha colpito molte volte ed è stato difficile purtroppo anche preparare le partite proprio per affrontarle la domenica. Infatti volevo arrivare proprio a questo, quanto è difficile anche per lo staff e per il coach lavorare in queste condizioni? È complicatissimo perché comunque hai un'idea di squadra sin dall'inizio, hai un'idea che è giusta perché come è stato dimostrato nelle prime giornate siamo stati molto bravi a rimanere anche sempre nei primi posti della classifica. Nonostante tutto, nonostante i problemi ovviamente il coach in primis ma tutto lo staff tecnico ha sempre lavorato come se questi problemi non ci fossero nel senso con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia però è ovvio che a un certo punto hai sempre bisogno comunque di risorse, di giocatori e noi spesso ci siamo trovati a non avere neanche dieci giocatori per poter concludere l'allenamento e questa cosa è frustrante. Ovviamente siamo professionisti, ci teniamo particolarmente, ci siamo sempre passati sopra come faremo da qui fino alla fine del campionato, come faremo anche stasera però è comunque frustrante e molto complicato. Ultima battuta l'hai accennato in apertura ma ovviamente questo non riguarda solo te ma un po' tutti i compagni perché se guardiamo poi gli acciacchi e i problemi sono arrivati un po' per tutti. Questo è ovviamente ancora più complicato per la situazione attuale. Sì, la situazione attuale è abbastanza critica nel senso che ci troviamo senza praticamente tre giocatori del roster iniziale, la società è stata anche brava ad intervenire durante il campionato, a metterci subito una pezza e questo sicuramente bisogna riconoscerlo. Il problema è che se ne è sempre aggiunto uno dopo un altro ed è anche difficile intervenire in una situazione del genere quando gli acciacchi sono anche fastidi che si allungano nel tempo e non ti permettono di giocare ma ti lasciano comunque sempre uno spiraglio per tornare in campo. Noi sotto questo punto di vista non l'abbiamo mai mollato e quindi siamo sempre scesi in campo nonostante i dolori, gli acciacchi fisici, però come tutti gli sportivi sanno come noi sappiamo in primis un conto è scendere in campo al 100% e un conto è scendere al 50% con molta voglia di fare ma comunque sempre al 50%. Ultimissima battuta Lorenzo, i tifosi comunque sono sempre molto vicini a voi con messaggi anche alla squadra, sentite questa avvicinanza? Noi probabilmente nonostante i momenti difficili è stato anche questo attaccamento da parte dei tifosi che ci ha permesso nonostante tutto, nonostante i diversi problemi di arrivare a quota 24 in classifica ma già 4 giornate fa insomma ad avere la probabilità di entrare nei playoff che ancora abbiamo quindi è ovvio che ne siamo grati e cercheremo comunque mancano ancora 5 giornate alla fine del campionato e noi cercheremo di fare il nostro meglio come abbiamo sempre fatto però insomma la riconoscenza è infinita perché sono stati in grado di capire il nostro momento di difficoltà e quindi cercheremo come abbiamo sempre fatto di onorare questa maglia fino all'ultima giornata del campionato.